Ciao a tutti, oggi vi parlerò di una corda d'arrampicata, vi parlerò della Dura Dura, una corda singola prodotta dalla ditta Cosim, specializzata in fabbricazione di corde e cordini. Il nome è quindi impegnativo, vediamo se il nome rispetterà le caratteristiche di questa corda e le impressioni che mi ha trasmesso. Si tratta di una corda singola di diametro 9,5 mm con 6 cadute dichiarate. Il peso al metro è di 58 grammi, che è perfettamente in linea con corde di questo diametro. Ho testato una matassa di 70 metri, la classica lunghezza che oggi va per la maggiore, per un utilizzo soprattutto in falesia. è ovviamente fornita con la metà marcata, di un bel colore verde cangiante, e soprattutto è fornita con due trattamenti, il primo che ne garantisce una ottima fluidità, mentre il secondo che impedisce che all'interno dell'anima penetri umidità e sporcizia. Vediamo ora le mie impressioni riscontrate nell'utilizzo sul campo. La prima cosa che colpisce prendendo in mano questa corda è la fluidità. Davvero una sensazione mai provata prima maneggiando altre corde. È morbidissima, scorre benissimo sia nelle mani che nei freni, e sembra quasi che si stia gestendo una mezza corda, nonostante poi il diametro, come ho detto, sia di 9 mm e mezzo. Ha un'ottima morbidezza e annodabilità anche. La seconda cosa positiva che ho riscontrato è l'allungamento statico molto ridotto. Che cosa significa? Significa che quando uno scalatore scala da secondo in moulinette, oppure il nostro compagno che sta tentando il passaggio si appende, l'assicuratore fa davvero poca fatica a mettere in tiro la corda. Quindi la corda reagisce subito e si evita quel fastidioso effetto yo-yo che rende poi il bloccaggio molto più lungo. Questo lo si paga un po' in termini di forza d'arresto che risulta un po' più alta rispetto ad altre corde di pari diametro, ma alla fine è un parametro che almeno nella scalata in falese su terreno sportivo è meno importante. Sul campo è stata testata con due freni, sia il Grigri più della Petzl, sia il ClickUp più della Climbing Technology e con entrambi i freni da risultati assolutamente positivi, soprattutto nel fornire corda velocemente allo scalatore che sta arrampicando da primo. Quindi totalmente promossa. In conclusione il giudizio sulla corda è particolarmente positivo. Si fa apprezzare soprattutto per la fluidità, per la maneggevolezza e per il ridotto allungamento. Quindi la consiglio su terreno sportivo sia di falesia che su via più tiri sportive e ad un pubblico a scalatori di medio-alto livello abbastanza esperti. consiglierei particolare attenzione a neofiti soprattutto nella gestione con freni dinamici tipo il secchiello, vista l'estrema fluidità appena che abbiamo descritto. Grazie a tutti e al prossimo video.